Un altro dei grandi nomi del primo futurismo, Carlo Carrà, viene qui rappresentato con le opere della fase successiva al momento avanguardista e anche al momento metafisico, in cui si riscopre il tema del paesaggio, che aveva un'importanza relativa tra le due guerre, ma che nel suo caso arriva a vertici di qualità, in cui addirittura il modello antico sembra rifarsi a Giotto. A fianco suo c'è questa straordinaria scultura di Marino Marini giovane che ripete in qualche modo i bronzi antichi reperti archeologici che diventano anch'essi un modello della nuova cultura tra le due guerre.